in caso di pioggia si finisce con le mani e poi ricordare agli arbitri del punteggio delle varie coppie, ma non bisogna finirla comunque senti come suona, è una nuvola qua sincera, gocciola, gocciola, si fa annunciare è un po' d'acqua su, cosa cerchiamo adesso? c'è l'acqua malata, c'è l'acqua malata, c'è l'acqua malata il fondo c'è l'acqua malata, c'è l'acqua malata il fondo c'è l'acqua malata niente considera che veniva l'acqua malata Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 5. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. 7. a tutti. . a tutti. a tutti. . a tutti. . a tutti. . a tutti. 9 a 7 ancora 2.000 9 a 6 per Cabriaguez 8 a 9 2 a 6 9 a 7 10 a 7 10 11 13 13 14 15 16 Grazie. 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 Oh, il Sio l'ha penata. 9 a 8, ancora 2000. poverina, quanti anni è che sarà qua? si tira in casa eh, ma anche non aveva una storia si fa intelligenza qual è il livello che si chiama? insomma Ma è la strada che ho fatto io? La mia paranda è fatta. Grazie a tutti. 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 tra uno. a tutti. 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 . a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . a tutti. a tutti. . a tutti. . a tutti. 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 . a tutti. 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 1. a tutti. 5. a tutti. 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 7. a tutti. 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 a tutti.